Questa scena veramente era capricciante di un Delio Rossi fuori di testa che ha fatto qualcosa di assolutamente deprecabile. Qual è la situazione adesso? Perché Mario Sconcerti addirittura ha fatto immaginare una scena, quella di un Delio Rossi che abbandona il termine primo tempo. Questo ancora non lo sappiamo. La scena è stata veramente incredibile, non abbiamo mai visto nulla del genere in tanti anni di calcio. Posso dirti che subito dopo questo episodio è incredibile, però Delio Rossi ha ripreso subito il controllo della partita, della situazione, quindi ha reagito subito. Quindi questa ipotesi che diceva Mario ancora non ha avuto modo di verificarla e lo faremo in seguito, però ti posso dire che ha ripreso il controllo della situazione. Ma la scena è stata incredibile, ci riferiscono di parole molto pesanti che il giocatore avrebbe detto all'allenatore, però certo la reazione è inaspettata. Il problema non è Delio Rossi, Delio Rossi può decidere o non decidere di mettere.